Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze, spostando Cina 1 in direzione Roma fino alle 19, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio. Sempre verso Roma rallentamenti per lavori nei pressi dello svincolo di Calenzano, Sesto Fiorentino. In direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sempre in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!